Prima di iniziare il video, fai clic su mi piace e iscriviti al nostro canale, per darci il tuo supporto. Grazie. Daniele Bossari, e Filippa Lagerbach, un amore, coronato dal matrimonio. La loro storia d'amore si è realizzata solo pochi anni fa, nel 2018, dopo 18 anni dal loro primo bacio, e con la presenza della loro adorabile figlia Stella, che ora ha 19 anni, ed è bellissima come i suoi genitori. Filippa Lagerbach, testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, dedica il suo impegno a tematiche importanti, che le stanno a cuore. Ma ha anche vissuto personalmente, l'esperienza del cancro, poiché suo marito Daniele Bossari, è stato colpito dalla malattia. In un'intervista toccante, rilasciata al Corriere della Sera, ha apertamente parlato del tumore alla gola, che ha colpito il conduttore, e di come, grazie alla forza del loro immenso amore, siano riusciti ad affrontarlo insieme. Quando le viene chiesto delle condizioni attuali di suo marito, Filippa risponde che è in fase di follow-up. Tuttavia, come sappiamo, passano anni, prima che un paziente oncologico, possa dire di essere definitivamente guarito. Non sono mancati momenti difficili, ma il potere dell'amore, li ha aiutati ad affrontare tutto insieme, mano nella mano, come hanno sempre fatto, in ventuno anni di amore condiviso. Quando la tempesta si fa più intensa, la lotta è migliore se combattuta in due. Come afferma Filippa, l'amore è una fonte di forza. Aggiunge che si sono affidati alla scienza. Le sue parole rappresentano un pugno al cuore, per tutti i fan di Daniele Bossari, ma allo stesso tempo, sono un invito a riflettere sulla grandezza del sentimento, che unisce questa straordinaria coppia.